Ma buongiorno recuperatrici e recuperatori di libri dal passato, di libri dal passato e di film dal passato. Inizio con lo scusarmi perché ieri verso sera è uscita una prima rudimentale versione di questa recensione, di questo film, però tempo che me lo sono riguardato appunto su YouTube non mi ha convinto perché c'erano delle cose che non erano uscite fuori come volevo, mi sembrava che non fosse un video che restituisse il giusto rispetto a questo film che ne merita tanto, tantissimo anzi, e quindi l'ho eliminato. Mi scuso con qualcuno di voi se per caso ha ricevuto la notifica o stava vedendo il video che poi è sparito all'improvviso, ma era il caso appunto di eliminare questo video e rifarlo. Quindi, ricominciamo da capo, Le lacrime amari di Petra von Kant è un film che ne ha tanti di motivi di interessanza. Allora, detto questo, è un film realizzato da un regista, Fassbinder, che aveva 26 anni e per farlo, per girarlo, ci mette 10 giorni. Questa già è una cosa assolutamente straordinaria. Questo film deriva da uno spettacolo teatrale che Fassbinder aveva scritto e messo in scena a teatro l'anno precedente, e quindi praticamente poi in quel lasso di tempo diventa un progetto cinematografico ed è un periodo di intensissima attività di Fassbinder che in quell'anno lì gira tre film, praticamente. Fassbinder è uno dei registi europei più prolifici della storia. Muore giovanissimo, ha 37 anni e realizza più di 40 film, senza contare le regie teatrali, le serie televisive che ha realizzato, i film per la televisione. Insomma, è stato un autore geniale, geniale, e assolutamente prolificissimo. Purtroppo intaccato, logorato da un male di vivere che non ha mai nascosto, e che si vede anche nelle interviste, nel senso è una persona che fa molta fatica a fare un sorrisino, e anche quando recita nei suoi film, ecco, come ho già detto nell'altro video su un altro suo film qualche giorno fa, il suo volto e la sua espressione in volto è quella, sia che recita nei suoi film o nelle interviste in televisione, appunto, trapela un certo tensione, un certo malcontento. Questo film, Le lacrime amare di Petra von Kant, sottosta alla sua concezione pessimistica della vita. Faccio una citazione di una sua frase, che è proprio un suo modo di concepire i rapporti, Fassbinder disse, quando due persone si incontrano e hanno un rapporto, si tratta di capire chi dei due comanderà l'altro. Ed ecco che questa frase, che è una perfetta chiave d'accesso per molti suoi film, funziona anche per questo film qui. Allora, parlando di, appunto, rapporti di potere, vedremo che questo è un film fondamentalmente dove appaiono sei personaggi femminili, e solo sei, quindi è un film tutto di donne. Abbiamo una protagonista, Petra von Kant, stilista di successo. All'inizio del film Petra vive con una donna, con la quale ha un rapporto di amore che si chiama Marlene, però Marlene è la sua serva, e quindi Petra la tratta malissimo, la comanda, la comanda con quel classico rapporto padrone-serva. E quindi la comanda, spesso Marlene è anche un pochettino lenta nel muoversi, sembra quasi aspettare quei due secondi in più per farsi dire svelta su, muoviti, sbrigati, così. Quindi vediamo che il potere è nelle mani di Petra, e che lo esercita con spietatezza, con freddezza, verso la sua serva Marlene. Marlene è un personaggio molto interessante, che nel film non parla mai. La cosa straordinaria è che, sebbene Marlene non parli, alla fine della visione non ci apparirà un personaggio che conosceremo di meno rispetto agli altri cinque personaggi femminili. E questa è una cosa molto interessante, che contribuisce a rendere questo film un capolavoro. Ecco, ad un certo punto, si diceva appunto il rapporto tra Petra e Marlene. Marlene esegue anche materialmente i disegni da stilista di Petra, quindi Petra è arrivata ad una posizione della sua vita con un matrimonio alle spalle, e che comunque materialmente non fa più nulla. Ecco, fa tutto quanto Marlene. Marlene è la sua serva, è la sua compagna. Marlene fa i disegni da stilista al posto di Petra. Ad un certo punto la viene a trovare una sua amica, una amica di Petra, e dopo poco arriva una ragazza che la sua amica voleva farle conoscere. Questa ragazza si chiama Karin ed è la persona che sconvolgerà gli equilibri, perché si innesca un nuovo rapporto di potere, nel senso che nasce un rapporto di coppia tra Petra e questa Karin, che è più giovane di lei. E che cosa succede? Succede che mentre il potere di Petra verso la muta Marlene è un potere attivo, con l'arrivo di Karin c'è un potere che Karin esercita passivamente su Petra. Perché Karin in realtà non chiede nulla, non pretende nulla, ma il suo potere lo esercita tutto quanto dicendo dei no, temporeggiando, sottraendo attenzione. Vedremo in un passaggio tra due scene, che sottintendono che di mezzo c'è stata un'ellissi temporale, vedremo che quando si conoscono, Karin cerca con i suoi semplici mezzi di apparire una persona carina. Poi c'è un taglio, appunto un salto temporale un pochino più avanti nel tempo, vediamo che il loro rapporto è già completamente logorato. E Karin appunto è stufa già di questa storia con Petra, già dice dei no, già temporeggia, già è scostante, è già diventata antipatica, e non ha più bisogno di essere carina, ha già ottenuto quello che voleva. Ecco, ora andiamo un po' più sugli aspetti formali, visivi, sull'aspetto visivo del film. Il film si svolge eccezionalmente tutto quanto nella stanza, in una stanza dell'appartamento di Petra, perché appunto il rimando è all'impianto teatrale che sta all'inizio del film, cioè che appunto alla sua origine era teatro. Quindi tutto quanto in una stanza e si svolge praticamente quasi tutto sul letto di Petra. Vedremo che nell'appartamento nell'appartamento di Petra ci sono dei manichini, perché lei appunto è una stilista, ci sono manichini, ci sono bamboline appoggiate alle mensole, ad un certo punto c'è una bambola che verrà regalata a Petra e questa bambola ha la pettinatura identica a quella che è la pettinatura di Karin. Quindi tutto questo riproporsi delle immagini dei manichini in qualche maniera crea un corrispettivo anche con certe movenze, certi modi di recitare delle attrici, perché sovente loro si fermano in pose molto pittoriche ma anche innaturali, antinaturalistiche, per esempio con un braccio adagiato sopra la testiera del letto o comunque appoggiate a una vetrata, ci sono queste pose che loro assumono, che sono pose tra il teatrale e il fotografico e quindi a volte le attrici stesse sono ferme come manichini e appunto visivamente ci sono queste corrispondenze molto interessanti che alludono cioè come dire questi personaggi sembrano se vogliamo in un certo senso tutti manichini tutti i manichini e se poi mettiamo che Marlène la serva di Petra non parla mai ecco che c'è questo anche ritorno del mutismo un mutismo concreto assolutamente metafisico molto interessante gestito molto bene da Fassbinder dicevo pose naturali appoggiate ferme a volte ferme in questa recitazione che a volte è lenta e la fotografia straordinaria del direttore della fotografia Michael Ballaus contribuisce ecco la cosa bella è che Ballaus riesce a creare una grande diversificazione di luci di fotografie all'interno sempre della stessa stanza e quindi è un genio senza mezzi termini a volte con la luce è più pittorico è più pittorico si vede che l'effetto è praticamente da quadro in questo film tutto il femminile c'è una assenza assenza presenza attenzione cioè l'assenza dell'uomo gli unici due uomini di cui si parla è l'ex marito di Petra von Kant di cui lei ne parla all'inizio con la sua amica parla di questo marito ovviamente in termini dispregiativi molto duri e c'è un marito di Karin la giovane ragazza della quale Petra si innamora quindi si parla di questi uomini che però non li vediamo mai che uomini vediamo in realtà vediamo la figura maschile in una gigantografia di un quadro classico che appare a tutta parete nella stanza appunto di Petra e quindi c'è questo rapporto ancora con la fissità quindi c'è la fermezza dei manichini la fermezza di questo quadro a volte la fermezza delle attrici ci sono queste fermezze che corrispondono che quasi si rispecchiano le une nelle altre però la cosa bella è che cinematograficamente Fassbinder riesce a fare un film tutt'altro che fermo anzi molto dinamico con movimenti di cinepresa a volte lentissimi tarkoschiani nel senso alla Tarkovsky regista russo a volte un po' più snelli più veloci sempre elegantissimi e a volte soprattutto Fassbinder sa stare fermo quindi anche qui vediamo il suo uso della grammatica cinematografica sapiente all'inverosimile perché quando deve stare fermo sta fermo quando è il caso di muoversi si muove tutto è calibrato alla perfezione dicevo gran parte dell'azione si svolge in questo letto spesso le attrici sono appoggiate sul letto sedute sul letto stesso sul letto e su questo letto si parla quando ad un certo punto la giovane Karin se ne va ecco che il letto sparisce sparisce il letto rimane questo tappeto è un tappeto di quelli come dire tappeto peloso bianco la protagonista Pietra von Kant cambia nell'arco del film cinque parrucche e cinque costumi alcuni bellissimi elegantissimi va sottolineata la straordinarietà di tutte le attrici di questo film ma quella che interpreta appunto la protagonista è veramente qualcosa di eccezionale di una bravura unica dicevo sul finale quando appunto non c'è più questo letto centrale spesso vediamo Petra stesa per terra presa da una crisi di nervi perché è abbandonata e quindi sta soffrendo per questo abbandono da parte di Karin e torna l'amica che avevamo visto all'inizio per la prima volta vediamo che arriva anche la madre di Petra e la figlia di Petra la figlia di Petra è un personaggio che mi fa una grande tenerezza si dovrebbe dire una ragazza dolcissima tra l'altro vestita anche in un modo elegante ma anche un po' buffo con questo vestito giallo e la figlia la figlia è vuole un gran bene a Petra la tratta con quasi con devozione e invece Petra la tratta molto male come anche Petra tratta male la sua stessa madre se vogliamo questo poteva essere un film è un punto di vista non è l'unico è un film su questa su questa donna su questa stilista che è riuscita ad emanciparsi quindi ha abbandonato un rapporto simbiotico con un marito per avere un'emancipazione materiale concreta e che però deve deve anche imparare a trattare con gentilezza gli altri quando alla fine 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 riuscirà a trattare con gentilezza anche la muta Marlène vedremo che c'è un colpo di scena finale colpo di scena che è un colpo di genio molto interessante in cui in un certo senso la Fassbinder introduce un registro sarcastico e tutto sta non nelle battute ma nel comportamento della muta Marlène quindi è un finale sorprendente eccezionale proprio che conclude questo film alla grande e lo lo conchiude proprio nell'essere un capolavoro un capolavoro perfettamente compiuto quindi quindi se cercate un film di acutissima introspezione psicologica scritto come Dio comanda con un linguaggio cinematografico sofisticatissimo e e lì si vede che cos'è un grande regista un regista che non ci dà mai il senso di claustrofobia sebbene tutto si svolga praticamente dentro una stanza con un lavoro sull'immagine ricchissimo stratificatissimo questo è il film che oggi vi vorrei sospingere dolcemente a vedere bene io vi ringrazio anche se sta piovendo e la luce è vagamente grigiuzza però io vi auguro una bella buonanotte ciccette buonanotte ciccetti a presto